Giovanni è freddo, diamogli la mano! Vendetta, figlio! Un picerno ben messo in campo, attento, concentrato, concede poco o nulla alla capolista del girone H ed anzi non rinuncia nemmeno all'idea di fare il colpaccio. Per le assenze di Miglionico squalificato e da Gresta non al meglio, Arleo mette Franzese in difesa, rispolvera De Cristoforo a centrocampo e concede un turno di riposo a De Luca. Nel primo tempo è proprio la squadra di Arleo che al nono si rende pericolosa con un colpo di testa di Tedesco che impegna severamente il giovane portiere Ceccucci. Dopo una caduta di Pagliarolle in area, sanzionata con il giallo per simulazione, al ventiquattresimo è Tagliarolle ad impegnare Ioime, ospiti pericolosi al trentatresimo con una incursione di Massella servito da Tagliarolle, ma è bravo Ioime a sventare la minaccia. Nella ripresa, dopo dieci minuti, ci prova per la capolista Fatati, ma il suo tiro potente trova pronto alla parata il portiere del Picerno. Subito dopo, al venticinquesimo Arleo inserisce di senso, ma al trentunesimo Esposito la combina davvero grossa, commette il più inutile dei falli a centrocampo e si becca il rosso. Ovviamente il Trastevere ne vuole approfittare e produce il massimo sforzo. Al trentottesimo Massella crossa per Tagliarolle che manda alto, subito dopo è Ricucci che ci prova mandando però alto, e al quarantatresimo Mastro Mattei cerca il tiro della domenica da oltre 35 metri, ma Ioime è molto attento e sventa la minaccia. Non succede più niente ed il Picerno rinzerra ancora di più i ranghi e porta a casa un meritatissimo e preziosissimo pareggio.